bella ragazzi e benvenuti al 129 esimo episodio del rotto commander e 129 129 129 proprio ormai la fine qua si avvicina è ormai il livello 80 anzi la fine del livello 80 è vicino comunque oggi a cappa vediamo a cross the muretto cosa succede niente vabbè first world ok ma come cazzo vabbè comunque o my fucking god vedi che a cross the muretto c'è stava qualcosa è servito a qualcosa cross the muretto merdissima e va bene a cappa silenziato è abbastanza fomentante lo ammetto va bene va bene io ho traforato il culo che roba che se beve gli esce tipo l'acqua dai buchi del culo che gli ho creato però non è morto però non è morto perché lui è lui è dio e può sopravvivere ai buchi nel culo certo vi stunno tutti niente anzi vi stunno le madri lol stunnante proprio merda ti apriate questa bastardo inside the window doppia in the window proprio semtex in the window faccio sempre sti sti lanci quasi fantasiosi sono un fantasista del lancio della semtex io cazzo veramente come me nessuno mai proprio questo dovevo chiamare road to semtex altro che road to commander però il commander qui sta arrivando è proprio livello 80 come ho già detto già un po di nostalgia perché poi non che poi finirà un mio dio doppia no merda sono lontano manco uno da doppia a manco uno perfetto meglio campo di error di mano come giusto che sia e vi spara flash o la vita che viatevi l'elicottero l'ho piato uguale continuate a venire addosso no niente invece si e invece c'è stai ancora no cristo 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 dio direi cristo il dio ti stunno un cazzo muori muori assist e ho tirato una semtex e gli ho sparato assist vabbè non parlo che ha detto uavremi come sa vabbè a pezzo da merda voglio guardare le piastrine che c'ho da raccoglie ecco ci sono negata ci stanno troppo lontani da me non le prenderò mai vabbè da dietro però nessuno che mi copre le spalle inutili proprio ho fatto un casino della madonna sicuramente si è sentito il rumore stunnata cross de cancello niente oh my god ff smurb com'è vendetta proprio vendetta aveva non finiva in galeva frituci e baldazzi l'avevo già cantata me sa sono ripetitivo sono vivo sono vivo sono recidivo chi non conosce jx è un pezzo da merda chi lo conosce e lo sente mettete mi piace se ascoltate jx basta che cazzo fai ma come giochi impara a giocare dai migliori cioè non da me lol da questo carpe camme carpe cammello come si chiama quello vabbè non li commento ormai non li commento più i nomi perché non contrari talmente tanti dei nomi idiotico ormai non c'è veramente più senso commentarli sarebbe quasi inutile senza senso sì c'era tanto ma non mi ricordo quelli dei primi episodi come si chiamavano però qualcuno bello ce ne stava cipollares cipollares sono di questi poi ce n'erano altri due che non ricordo se ve li ricordate voi scrivete nei commenti e vabbè però c'è veramente inutile commentarli adesso esploderà la macchina io morirò mamma mia che culo uccisione confecristo basta basta con cristo e dio matteo montesi basta tripla proprio così random voglio far minimo un accrobo fatto in semtex in the window non posso ritenermi soddisfatto beh stunnato ok distrutto guarda che schifo però camper di merda 18 7 siamo anche a metà partita ahah come quando campero io pi alpa pi al palo un culo te chiamo te chiamo muoio no pi alpa pi al palo un culo basta no tutti la oddio 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 a cross the albero un cazzo oggi non funziona tanto bene in questo episodio i grandi oddio che volo che ha fatto sti cazzi dai così vabbè un'altra tripla ma è sempre lo stesso se sta a fare solo triple addio mi sento nabbo va bene mo me dà la stessa sicuro è ovvio 27 vabbè vabbè oh cristo niente guarda come entrano come i cammelli questi proprio che si fanno uccidere senza difficoltà vediamo il bombardiere quanti ucciderà minimo 7 secondo me stavano 6 manco uno anzi uno che invece io per predator una strage proprio niente traversa stunnato come sempre quello di quello si chiama tectonic 205 tipo ora mi segnala il il coso eccolo no era una stun lol sono stato fortunato il drone non mi ha visto lol ma che cristo com'è cristo redentor ma come fa non vedemmi il ciccio buffo cazzettino là merda c'ho proprio che nell'ano adesso via via tutti dentro tutti dentro tutti dentro pezzi di merda vi dico tutti dentro ci sarà un motivo no coglioni io sparo a caso dammi headshot pezzo di merda era headshot sti ghiacci volevo 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 pate volevo pate pate avec moi basta dico troppe cazzate vabbè i colpi che non partono albi the best ma buongiorno cazzo ma come te chiami albi the best fammi un pippone coi piedi cazzo basta muori odio smurb vendetta proprio oddio sto avuti là guardate questa gol gol ed è gol no non è gol 4345 ragazzi stanno a perde bella ragazzi stanno a perde direi merda guarda questo giro il bancone che cosa fai la piccola casalinga cristo vai entra dentro entra dentro entra dentro mi è entrata alla finestra sicuro no invece no è morto raccogli le piastrine dai è così predator ma che pareggio grandi troppo forti troppo forte io doppia sboh oddio ho visto come avevo fatto headshot col predator invece no se rischiamo se riusciamo a superare sta cazzo di ricompensa del merda merda e vabbè io come parlo mi porto sfiga è una cosa paurosa come parlo mi porto sfiga devo sta zitto già bene ok oddio sta uno là oddio è mio oddio è mio oddio è mio where are you and I'm so sorry I cannot sleep I cannot dream tonight I need somebody and always basta vediamo chi la conosce sta canzone se la conoscete scrivete il titolo nei commenti sotto al video altrimenti vaffanculo a voi e la vostra stirpe non amate la musica se non conoscete sta canzone sta partita è tiratissima 53 pari è attaccata no un cazzo attaccata attaccata al cazzo mi sono attaccata 31-11 oh my god si però stiamo a perde no mi ho perso 30 secondi mancano oddio sta partita la partita è uccisione confermata che finisce per il tempo mori 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 via via prendere le piastrine via prendere le piastrine eh però qua vedo dura mamma mia mamma mia alla caritas merda non gliela faremo mai non gliela faremo mai oddio 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 via 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 merda no prendete le piastrine prendete le piastrine no se finisce in pareggio è ridicolo finita vittoria grandi gran team spero che comunque questo episodio vi sia piaciuto 34-12 va bene non male bella arma complimenti voi ricordate di votare e di commentare il video chi non lo fa è veramente un laziale cacciottare noi ci sentiamo domani con un nuovo episodio si sale di livello bella grazie a tutti i nostri spettatori qui non lo fa